Gentili spettatori di Fiumicino Online, sabato 21 settembre si apre nel nostro territorio una costellazione di eventi. È un qualcosa di particolare, avremo praticamente cultura, sport, musica, prodotti tipici, concerti, spettacoli, mercatini e tantissimi altri appuntamenti. Come dire, una notte da trascorrere sotto le stelle. Ma una cosa molto importante è che l'iniziativa è stata fortemente voluta dal nostro sindaco Esterino Montino che ho qui accanto a me. Lei ha dichiarato che sarà un evento straordinario, ci può dire qualcosa per questo evento? Sarà un evento straordinario perché intanto si concentrerà la notte, naturalmente inizieremo anche il pomeriggio perché ci sono alcune iniziative che non si possono vedere di notte, bisogna vederle durante il giorno e queste iniziative sono per esempio il barcone che fa il giro del Tevere fino a Capodurami e poi arriva a Fiumare Grande e torna indietro. La visita nelle zone umide di Maccarese dove si possono vedere avi fauna, uccelli di tantissime specie. Facciamo visite di tipo culturale e archeologico dentro l'area del porto archeologico del porto di Traiano. Andremo a vedere il castello di Maccarese, il castello di Torre in Pietra e poi naturalmente a seguire ci saranno eventi gastronomici, c'è un'importante novità di un'adesione molto ampia da parte dei nostri ristoratori che sono tanti nel comune di Fiumicino, con prezzi straordinari, la stessa cosa riguarda gli stabilimenti balneari, faranno anche loro iniziative specifiche. Alle 22, contemporaneamente da Passo Scuro fino ad arrivare a Fiumare Grande, a Fiumicino, ci saranno 8 postazioni di fuochi d'artificio dove a un certo punto chiuderà una parte dell'evento, della giornata e poi ci saranno musica, spettacoli, pedonalizzazione di alcune aree. Una, per esempio, delle importanti pedonalizzazioni saranno questo chilometro di sport che faremo sul lungomare della salute. Il lungomare della salute sarà per un chilometro intero precluso al traffico, comunque un traffico limitato e lì ci saranno decine e decine di iniziative sportive che si rivolgono ai bambini, che si rivolgono ai ragazzi, che si rivolgono persino agli anziani. Quindi si gioca, si sta insieme, si mangia, si vede e ci saranno iniziative culturali spettacolari e poi naturalmente si va a un certo orario nei tre punti dove facciamo tre punti di musica importanti. Io sono via Castellammare a Fregene, qui Torre Clementina e poi Parco Lonardo. Quindi, come lei ha detto, è un'occasione per promuovere il nostro territorio, ma abbiamo qualcosa per promuoverlo anche in inverno? Perché spesso il nostro territorio in inverno è un po' lasciato da parte, perché il turismo ce n'è un po' meno. Magari noi che siamo residenti qui a Fiumicino abbiamo un po' meno cose da poter vivere. Ha qualche cosa di dire ai nostri spettatori, magari una novità? Sì, insomma, diciamo lo scopo della Notte Bianca è quella veramente di allungare la stagione. Il nostro territorio è preso d'assalto quasi nel periodo estivo e poi si svuota durante il periodo invernale. Anzi, si svuota verso la fine dell'estate e all'inizio dell'estate già. Quindi c'è un forte rallentamento di persone che poi non vengono, vengono soltanto veramente nel mese di giugno, mesi di luglio in particolare e poi il mese di agosto. Ora, il tema è quello veramente di promuovere il territorio, far conoscere le nostre principiità, far conoscere per esempio questa grande ricchezza enogastronomica, i prodotti tipici locali. Per esempio ci saranno dei punti d'assaggio dei nostri prodotti tipici, la carne, il vino, il pesce. Quindi ci saranno anche punti di assaggio di questa importanza. E' chiaro che l'amministrazione non può fermarsi qua. Io penso che noi dobbiamo fare iniziative anche nel mese di dicembre, poi continuare anche in altri periodi facendo leva su alcune caratteristiche. La caratteristica è quella ambientale, la caratteristica è quella archeologica, i beni culturali che noi abbiamo e che dobbiamo mettere a disposizione di tutti, dei cittadini di Fiumicino, ma anche i cittadini del mondo e i romani che vogliono naturalmente frequentare sempre più spesso il nostro territorio. Bene, noi abbiamo molti dei nostri lettori di Fiumicino Online che vengono fuori, ci fanno delle domande, che cosa possiamo vedere. Bene, noi li invitiamo. Venite sabato 21 settembre e quindi potete veramente vivere una notte da sogno. Ci vediamo al 21.